Oh, 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 sì. Oh, un poliziato nel nostro territorio. Va bene, fermate. Questo è quello di cui o Egan parlava. Ciao! Vi siete dimenticati di che colore è la vostra macchina? Bye, bye! A dopo, amico. D'accordo. Vuoi giocare al gioco dell'oca? Dell'oca? Qual è il punteggio? Torni, ne hai sei. Ma penso che tu puoi arrivare fino a dieci. Dieci? Cominciando oca. Mi scusi? Va bene, oca. Mi dia patente il libretto. Il libretto? Allora, oca, si sbrighi? Mi scusi. Ti faccio divertire, ragazzo. No, no, no. Beh, allora mi dici perché stai ridendo, signor Larry Johnson? Oca, va bene. Cosa stavamo dicendo? Scusi, sta dicendo oca. Sto dicendo oca? Ho pensato... Non pensare, ragazzo. Lo sai a che velocità andavi? Oca, spiegami che diavolo c'è di così divertente. Potrei giurare che sta dicendo oca. O la faccio gli un'oca per te, ragazzo? Mi vedi starnazzare tutto di noccolato a destra e a manca per caso? No, no. Becco il poppone da una ciotola. No. Per caso mi vedi mangiare vermi? Smettila di ridere, porca loca. Sì. Oca, mi dispiace, ma ti dovrò fare una bella multa. Niente ma, questa è la legge. Non ti diverti più, oca, vero? Oh, cazzo!